È veramente un Parma che si diverte, gioca bene, guadagna tanti punti, ma è decisamente la stagione nella quale non mi aspettavo minimamente di ritrovarmi così, con questo bel calendario, con queste belle vittorie, con queste bellissime, parliamo a plurale, entrambi le classifiche di Europa League, di Serie A. Parma che è momentaneamente quinto, mancano ancora tre giornate, ancora nove punti a disposizione, ma siamo ad ora agli ottavi. È difficile rimanere in questa zona, però credo anche che sia difficile il contrario, scendere e uscire completamente dall'Europa. Io credo che alla fine noi prenderemo parte di Spreggio, quindi dalla nona alla 24 in sua posizione, non so adesso che posizione precisa, non ci voglio neanche provare, però probabilmente prenderemo parte di Spreggio. Poi è chiaro, se dovessimo vincere invece le restanti tre partite, tranquillamente, direttamente agli ottavi, insieme poi alle restanti sette che formano poi le prime otto della classifica. La Serie A, ragazzi, è anche qui spettacolo puro, è un Inter che non perde un colpo, zero, nemmeno un pareggio, sono veramente 13 vittorie su 13, 39 punti in classifica. Al secondo posto, il ritrovato Sassuolo, che nella passata stagione ha perso il treno Champions League dopo che per due anni consecutivi hanno conquistato la qualificazione in Champions. Al terzo posto ci siamo noi, con un solo punto di stacco dal Sassuolo, però come potete notare la differenza è minima, cioè due punti e noi siamo settimi. Due punti e noi siamo sesti, quindi, insomma, è una situazione di totale equilibrio per chi vuole andare in Europa, non per chi vuole vincere il campionato, perché probabilmente sarà l'Inter a vincere il campionato. Già uno spoiler, quasi, una sentenza a novembre con l'Inter a campioni d'Italia e con, probabilmente, Simeone Scarpadoro, perché Simeone in queste prime 13 giornate di campionato ha già totalizzato 16 gol. Quindi, di cosa stiamo parlando? Questo, se non si spacca il crociato, sarà lui a vincere la Scarpadoro. Sì, avete detto bene, perché adesso abbiamo uno scontro diretto per l'Europa contro la Fiorentina, che è sesta, vincere assolutamente per aumentare il distacco, allontanarsi da quelle posizioni e centrare le prime quattro posizioni. È vero che c'è sempre quel discorso del coefficiente, ma non soffermiamoci troppo, non vogliamo rischiare. Quarto posto sappiamo che sarà Champions e quindi vogliamo almeno, almeno, il quarto posto. Anche se c'è da dire che con tutti, poi, i presupposti che c'erano all'inizio stagione, con questo mercato, il più povero, il secondo mercato più povero, perché il primo più povero è stato quello della prima stagione, ma ci poteva stare. Prima stagione il mercato Parma è già stato fatto e il gioco si dà i rimasugli, quello che rimane. Questo, invece, in un contesto normale, è veramente il mercato più povero di questa Chairman Mode, tutto dovuto al problema momentaneamente risolto del frappello finanziario. Nonostante questo mercato, siamo lì, a un passo al secondo posto e molto vicini agli ottavi di finale di Europa League. Nuovo record d'affluenza per il Parma? Oh, carino! Effettivamente l'Europa ti porta anche maggiore incasso, poi, durante la fase, poi, di vendita, 475.000 euro. Nulla in confronto, poi, ai stadi delle grandi società, però è già qualcosa. È già qualcosa e io credo che questo, poi, il record possa ulteriormente aumentare, perché mi sa che abbiamo anche una partita in casa contro forse il Lione, esattamente, secondo me. Coglione, faremo tutto esaurito e il prezzo sarà forse anche un attimino più alto. Questo è un aspetto che dobbiamo adesso guardare, perché tra i soldi e non solo, anche altri giocatori, però sta per raggiungere le 50 presenze e col Paderborn avevamo, appunto, trovato un accordo, 50 presenze, 1.100.000 euro, quindi manca veramente poco. Il giocatore che sta continuando a giocare, il giocatore che, da quando ha lasciato Parma, buona stagione, però rimane, diciamo, a dei livelli essenzialmente bassi, sì. Ha giocato in Bundes, è stato retrocesso col Paderborn, in Serie B col Paderborn fa bene, ma con tutto il rispetto per tre soldi, mi sembra sempre un giocatore da Serie B. Qui abbiamo tanti, tanti non lo so, però diciamo che ci aspettano ancora diversi soldi per diverse cessioni, ad esempio anche la stessa Obelio, ci manca una rata, un pagamento, mezzo milione di euro che arriverà però nell'estate del 2028. Per quanto riguarda Brenner invece è praticamente quasi un milione in tre anni, poi è chiaro, stiamo parlando di brice, stiamo parlando di pochi soldi, però è una situazione come la nostra, diciamo che ci va tutto sommato bene. Anche lo stesso Aida, ve lo ricordate? Io no, non ricordavo più Aida, c'è stato Aida per poco ma c'è stato e ci mancano due pagamenti, quindi è un aspetto, ripeto, interessante e va bene, è chiaro, non sono le clausole belle del Lille perché quelle sono fantastiche, però comunque ci aspettano un po' di soldini. Che bello, abbiamo anche Udinese, è forse da vedere anche la partita con l'Udinese, perché forse è più importante addirittura quella con l'Udinese, che questa con la Fiorentina sono tutte più importanti se le vinci, a prescindere la vittoria sconfitta a pareggio sono comunque tutte più importanti, però l'Udinese è terza, diciamo, è una partita alla quale teniamo molto. Questa è la formazione e alla fine le scelte sono praticamente sempre le stesse, la panchina che si va a riempire di giovani, interessanti talenti, e una Fiorentina sesta che zitta zitta è a pochi punti dall'Europa, dall'Europa che conta, dalla Champions, con anche un acquisto, quello di Rabiot, per una volta che la Fiorentina prende la Juve non viceversa, è incredibile ma vero. Parma a Fiorentina si parte, una I, Pirola, Desire 2, ecco Gutiérrez che tiene palla, scambio corto con Pirola, poi ancora a lavorare sulla fascia a sinistra Gutiérrez, il movimento perfetto di Molero, può mettere il pallone in mezzo, una I, una I, terza letta stagionale, minuto 23, Parma già in vantaggio al Tardini, 1-0, Gutiérrez ciolito, largo Gutiérrez ha cercato lo scambio di prima con Molero, non era male l'idea, male però il passaggio, allora quindi da dietro il Parma, minuto 25 del Prato, e noi ancora una volta al commento di un Parma, e di un Dennis Bergamp, mai in discussione, e non sembra neanche più la Chairman Mode ragazzi, non sembra nemmeno più la Chairman Mode, Lovato sta diventando invece un replicare, una carriera alla Wenger o alla Sarah Alex Ferguson, con lo stesso allenatore per un sacco di stagioni, Molero che controlla ragazzi, a parte di Molero il passaggio per una I, Simeone ciolito sul filo del fuorigioco, vediamo, Simeone non si ferma ragazzi, potrebbe essere la sua 19esima rete in Serie A, e lo è, e lo è ragazzi, 19 in Serie A, 21, considerando poi anche i gol fatti in Europa League, perciolito Simeone. Del Prato non in condizione, potrebbe uscire, diversi giocatori non in condizione, vediamo adesso cosa decide di fare il nostro mister, tra l'altro, abbiamo anche il 47 Furio Mascanzoni, visto tra l'altro poco fa, Giovene della Primavera, che il nostro responsabile del settore giovanile dice, attenzione, valutalo per la prima squadra, ma a decidere non siamo noi, Mascanzoni comunque decide Bergamp, strizza sempre l'occhio Bergamp ai giovani, infatti abbiamo in panchina Mascanzoni, Simeone, controllo, destro! Sono 20 per il cionito, 22 in totale, che giocatore straordinario, epico, incredibile, sarà poi difficile ragazzi, fare anche una to, io magari lo faccio, dedichiamo una parte dell'ultimo episodio di questa stagione, ai top 3 gol di questa stagione di Simeone, non sarà facile, perché veramente tanti gol bellissimi, questo potrebbe sicuramente salire sul podio, perfetti, 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 è entrato Varela, è entrato Froller, è entrato Raffa e Enrique poi sul finale, sempre non perfetta, però la gestione dei cambi, ragazzi, sono 5 i cambi, non è che qua ne fa 3 perché si è tornati a 3, sono rimasti 5, però è un Bergamo che vuole anche fare un po' il Guardiola, anche Guardiola addirittura abbiamo visto partite dove faceva 0 cambi, io qua ritorno sempre a dire la stessa cosa, sì, non mi fa piacere, però se si vince, me lo faccio andare bene. questa parentesi dedicata a che fine hanno fatto certi allenatori, Giampaolo nella stagione, dalla stagione 2023 a quella 2026, insomma per tre anni, per tre stagioni, ha allenato il Bologna, un anno sabbatico, una pausa di riflessione, e a 60 anni, praticamente appena compiuti, decide di allenare una nazionale, accettare il contratto della Lettonia, Marco ha appena commentato, ci ha appena detto, qua mister, qua anzi che mister, qua carnevale il bilancio è rosso e di tanto, però la mail, l'aggiornamento da OneJ dice, stai tranquillo, stai tranquillo, va tutto bene per il prefinanziario. Ragazzi, voglio vedere questi gol, io immagino, credo tutti su palla inattiva, perché altrimenti non giustifico questa tripletta di Pirola, un Pirola, simione edition e poi due, riguardiamo questi gol però. Krastev, prima palla inattiva, primo gol di Pirola, qui due, fortunato, complice la deviazione, il difensore dell'Uinese, Parma che è al minuto 41, prova a riaprire la partita, scambio fagioli, cancellieri Almeda, e poi si conclude con un altro argentino, Pedro della Vega, per il gol del 2-1, nel secondo tempo, palla inattiva, Simeone, e poi ancora Pirola, fa di nuovo l'Udinese, che prova a rientrare in partita, e gli riesce al minuto 55, con Kiriakopoulos, e uno stanco vice non perfetto, ma c'è da dire anche che la conclusione di Kiriakopoulos era veramente molto violenta, ennesima palla inattiva, ennesimo aiuto del Ciolito, e qui Pirola, trova la sua prima tripletta in carriera. Allora, in tutto questo, noi possiamo ritornare secondi, dipende però adesso cosa farà il Sassuolo, ma ricordiamo che poco ci importa, perché noi abbiamo la grande chance di, se il Sassuolo va male, di poterlo già superare, e se dovessimo poi battere il Sassuolo alla prossima di campionato, di poter prendere di stacco dal Sassuolo. Veramente qui, se ci va bene, riusciamo ad arrivare praticamente a metà campionato, con un'ottima situazione in classifica. Ragazzi, Parma-Sassuolo, ci siamo. Questa è una partita molto sentita, una partita molto importante, possibilità concreta per poterli superare, poter arrivare anche, e raggiungere la Roma al secondo posto. È la sfida dei due carnevali, quello vero è quello nostro appunto di Parma. Attenzione frattesi Turam, e qui, miracolo di Stankovic, errore da parte del francese. Gutierrez, Molero, andiamo a coinvolgere il Ciolito, però sbaglia, l'appoggio a due, interviene Frattesi, allora quindi, ancora il Sassuolo, due poi mette una pezza, Simone va in suo aiuto, si va a servire a largo la farina, lì che si accentra, attenzione a brasiliano, Enrique, Enrique, Enrique! Non l'aveva calciata male, Gutierrez, Molero, Gutierrez, Cross, a cercare Simeone, c'è Pezzella, c'è Del Prato, c'è il Parma, c'è il Prato dentro l'aria, il pallone teso, Raffaele Enrique! La mette! Il nostro talento brasiliano, il nostro rosso, Raffaele Enrique, complimenti al mister, perché comunque, Raffaele Enrique, non giocava da tanto, ha segnato, recupera poi così la forma partita, rimanendo in campo sempre di più, bravo mister, anche nei cambi, insomma, nel non utilizzare sempre la stessa formazione, ma dare anche spazio a chi gioca di meno, Berg, attenzione adesso al francese, Lex Atalanta, Sopì, dentro per Bayrami, la deviazione è ancora Stankovic, ragazzi, ha fatto benissimo qui Stankovic, poteva farsi sorprendere, invece riesce a salvare il Parma entrato, anche Benvenuto Tedesco nel ruolo di trequartista, Tedesco già visto in azione più volte nel corso di questa stagione, qui bravo Varelli intanto su Pinamonti, deve stare attento però qui, deve gestire bene, e lo fa, andando da Lovato, poi dietro da Stankovic, ripartiamo, il lancio lungo del nostro portiere, Vitri, interviene Serge, non c'è però Tedesco, che da quella posizione trequartista tende a stare un attimino più basso, Torsverd, la deviazione, due, e allora quindi Benvenuto Tedesco, o una I, c'è Molero tutto solo, può centrarci, può fare quello che vuole, bersi un caffè, calciare, e chiuderla, due a zero Parma, grande Molero, grandi ragazzi, Frattesi, possesso ancora nostro col colmiano Serge, Rovella di impostare, o una I, sbaglia, stesso Frattesi a recuperare il pallone, a lanciare poi Pellistri, ed ecco quindi Vitri, da solo però in confusione, il Parma c'è, Torsverd, appena parlato, Pellistri, Pellistri avanza, Pellistri la riapre, l'Uruguaggio, Facundo Pellistri, ho appena parlato, finisce adesso, Parma 2, sa solo uno, forse siamo addirittura secondi in classifica, di cosa stiamo parlando? Questa deve essere la stagione fallimentare, quella del, il frappello finanziario, ti porta a fare un mercato diverso, spendendoli meno, non aumentando molto la qualità, ma qui ragazzi, la qualità è sempre rimasta, e questo Parma fa veramente quello che vuole, anche senza Simeone, anche senza i gol del Ciolito, esatto, sì, abbiamo visto per due partite, masca anzoni, giocatore che non presenta una scheda, orribile, chiaro, sicuramente non pronto per giocare in Serie A, però, discreto, discreto, un elemento che, può essere girato in prezzo, esattamente come tedesco, e magari, a vederlo più coinvolto, vedere anche una scheda migliorata, e magari anche poi, poterlo rivendere in futuro, delle cifre molto alte, vincere, sì, per rimanere, in zona ottave di finale, non aspettiamoci tre punti, perché tra pochi giorni giocheremo in trasferta, l'Olimpico contro la Roma, dopo pochi giorni giocheremo contro il Milan, credo anche quella è una trasferta a San Siro, forse potrebbe essere l'ultima vittoria dell'episodio di oggi, non lo so, no, però, questa è da vincere obbligatorio, perché la classifica ci vede, in questo momento è una situazione davvero molto bella, e quindi, avere poi quelle due partite rimanenti di Europa, ma essere sempre più vicini agli ottavi, per noi sarebbe veramente un grande traguardo, un grande successo, però, giovedì Europa League, il weekend Roma, olimpico contro i giallorossi, poi ancora col Milan, a meno che adesso, Bergamo non tira fuori dal cappello, dal cilindro, l'arma magica vincente, che ce la fa vincere tutte, non lo so, sarà dura, del Prato, Rovellone, Enrique, si va da Simione, tra l'altro, gioca Enrique, non tanto per scelta tecnica, ma ce lo siamo persi, l'infortunio di Evremovic, dopo controlleremo anche, il periodo di Evremovic, di questo infortunio, perché, è già la seconda, terza partita che gioca Enrique, il motivo, non per scelta tecnica, è detto per infortunio, e qui intanto, subito un Parma, che nei primi cinque minuti, passa in vantaggio, con il talento 2, Pirola, Bergamp, che non vuole, verticalizzare immediatamente, ma abbiamo comunque, lì su altre quarti, i giocatori che difficilmente, tendono ad abbassarsi, a partecipare alla manovra, e qui la confusione, del Maccabi Haifa, in grossissime difficoltà, ringrazio Nai, Parma 2, Maccabi Haifa 0, vittoria, che dovrebbe essere, davvero scontata e facile, Molero, Molerone, ma non ho capito, ma Molero era in campo, forse appena entrato, non sto capendo ragazzi, probabilmente si è fatto male una I, allora sì, è un doppio infortunio in realtà, perché una I, effettivamente giocava al posto di Molero, Molero è poi subentrato, però c'è anche l'infortunio di Enrique, che però rimane in campo, secondo me, mi auguro, spero che poi il mister decidi cambiarlo, anche in ottica poi, trasferta contro, la Roma all'Olimpico, bravo mister che ha fatto entrare Serge, bravo mister che ha fatto entrare Froiler, bravo mister che gioca anche in Sochi, perché è giusto così, bisogna prepararsi al meglio poi per la trasferta all'Olimpico, e quindi togliere quelli che sono i tollerissimi, per dare spazio a chi gioca meno, in una partita dove stiamo vincendo facile facile, dove al Festival del Gol partecipa anche il Ciolito, con la sua ventitresima rete in questa stagione, e siamo a dicembre, allora Enrique e io personalmente, nella condizione così, in questo scenario, se fossi Bergamp, non lo utilizzerei mai con la Roma, anche se contusione alla Tibia, veramente un'infortunio davvero molto leggero, impossibile utilizzare contro la Roma, assenza pesantissima, quella di Unai, infortunio non pesante, un taglio profondo sulla coscia, comunque fastidioso, che l'ha tenuto fuori per un po' di partite, invece Janko Ievremovic, anche lui ha forte rischio per la partita dell'Olimpico, perdiamo qualità sulla tre quarti, chissà magari, pazzi idea di rivedere Simeone sulla fascia, non lo so, le sberle dall'Olimpico, e che sberle ragazzi, e che sberle, ma io qui, e qui non tengo neanche a sottolineare, la differenza poi nello stato di forma, perché anche la Roma, a fine partita, aveva giocatori stanchi, semplicemente diciamo, che non siamo forse ancora pronti, per poter, per potercela vedere, contro certe squadre, soprattutto quando si gioca in casa loro, non c'è mai stata partita, Parma veramente, uno dei più brutti Parma, visti in questa stagione, mentre invece col Genoa, torna a essere un Parma, vincente, convincente, io come sempre do un occhio a chi ha giocato, per capire un po' anche il coinvolgimento, di quelli che giocano di meno, c'è stato, perché è entrato anche Ojo, è entrato anche Ensochi, è entrato anche Froyler, ma vediamo i gol di Krustev, che è di colui, che veramente, non smette di segnare, di far bene, Ciolito Simeone, Krustev, calcio di punizione, e qui Krustev, mi sa che l'ha fatto dalla distanza, attenzione Krustev, non tanto alla distanza, perché parte dalla distanza, ma entra, con troppo facilità, l'interno della rigore, trova la rete del momentaneo, 1-0, la seconda rete, nei primi minuti del secondo tempo, 2, il lancio in verticale, il solito controllo magistrale, da parte di Ciolito Simeone, la solita conclusione, verso il palo scoperto, e il solito festeggiamento, due assist in 22 partite, la classifica in questo momento, quindi, vede una Roma stabile, al secondo posto, noi siamo invece, a più 1 dal Sassuolo, e, questo ci fa, molto, tanto, troppo piacere, perché la Juventus, ha quota 33 punti, quindi, meno 6, ma attenzione, sono, 19 partite, una in più, noi abbiamo una in meno, quindi potenzialmente, potremmo essere, addirittura, a più 9, dal quinto posto, che significherebbe Europa League, è calato, contrasti è calato, non, la massima elevazione, vabbè, non, non si sta, diciamo, comportando, benissimo, anche se, primavera, fa quello che vuole, è interessante, intanto, guardate le linee di intesa, sì, 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 le linee di intesa, tra i terzini e le ali, e se non ho visto male, tra il mediano, ed uno dei due centrocampisti, si stanno, formando, si sono formate in realtà, sono già belle piene, ed è un Milan netta ripresa, Milan di Guardiola, che è campione in carica, all'inizio di questa stagione, ha giocato malissimo, adesso invece viene da un ottimo periodo, con quattro vittorie consecutive, quattro vittorie non consecutive, invece, quelle del Parma, di Bergamp, siamo pronti a San Siro, per potenzialmente andare a più 9, dalla Juventus, si inficherebbe che cosa, si inficherebbe Champions League, quasi, in cassaforte, anche se manca, metà stagione ancora da giocare, laddove non è mai stato possibile, vedere, un Parma, vittorioso a San Siro col Milan, ecco che coinvolgiamo il Simeone, il solito mega controllo, da grande giocatore, qui rischia la giocata, la tenta, la prova, non trova il gol, adesso il Milan, Ben Nasser, Pulisic, si crea lo spazio per calciare, Pulisic, la quinta rete stagionale dello statunitense, segna il 10, Stancovic superato, Milano in vantaggio, al minuto 30, corner Milan, attenzione qui, perché la partita è ancora, sull'1-0, e Casale, si fiora il 2, bravo Unai, c'è ancora speranza per il Parma, 11 I, più recupero dal termine, Unai, vada solo Mignan, salve il Milan, Zagaria, Lazetic, non chiude l'Ipirola, allora attenzione, Lazetic, super allovato, Zagaria, la chiude Luciano Zagaria, Milan 2, Parma 0, finisce qui, ultima possibilità per il Parma, per non pareggiare la partita, ma per segnare almeno un gol, benvenuto tedesco, falla al piede, Serge, attenzione, e questo gol fa male, questo gol fa male, perché negli ultimi minuti il Parma non si è comporto male, il Parma ha giocato probabilmente solamente negli ultimi 10 minuti, peccato per quel gol preso, del Milan sul finale, perché avessimo trovato questa occasione prima, staremo parlando di un pareggio, ma alla fine, comunque, analizzando un po' tutto, il Milan ha comunque meritato di portare a casa i tre punti, però non male la prestazione del Parma, soprattutto nei minuti finali, male da rivedere invece la gestione delle energie, perché in questa occasione è un Parma che ne esce fisicamente proprio distrutto da San Siro. Ok, allora, su Simeone, su Simeone, situazione che potrebbe essere golosa per noi, non tragica, se ce la giochiamo bene ragazzi, riusciamo anche a risparmiare un po', nell'immediato, poi è chiaro che in futuro no, perché si paga comunque tanto, esatto, un rinnovo al ribasso, allora io proverei, eh vabbè, ho fatto la c***a col Ciolito, col Ciolito mi sa che balza, col Ciolito che mi sa che balza ragazzi, col Ciolito mi sa che balza, però ragazzi, ma Ciolito comunque è scadenza 2029, non lo perdiamo adesso, non è un problema, non è un problema, sul serio signori, sul serio, Dennis Bergamo vicepremio di migliore allenatore, dall'associazione italiana Calciatori, migliore allenatore Ike, grande Bergamo, grande Bergamo, complimenti, forse è più interessante Robert Sanchez, molto più interessante di Musso, più giovane, contratto inferiore, e più o meno siamo lì come scheda, più o meno siamo lì, con Robert Sanchez praticamente andiamo a pagare, guardate, in teoria, in teoria, questo è il suo stipendio poi, un milio, poco più di un milione, un milione e 40 mila euro, probabilmente guadagna di più Stankovic, no, poco di più di Stankovic, e hanno comunque due schede totalmente differente, però pur di non farla fallire, allora potremmo negoziarla, sta, sto indennizzo così, posso dare 2,45, va bene, è anche tanto, guarda, anche Cagliari e Pisa stesso, stesso messaggio, stessa richiesta, Vasquez goloso, sempre nel rispetto dei giocatori spagnoli, in quella zona di campo, mini recap, delle trattative in entrata e in uscita, guardiamo prima quelli in entrata, Robert Sanchez, potrebbe essere lui, il nuovo primo portiere titolare del Parma, 30 anni, a novembre 31, comunque un portiere ancora relativamente giovane, sicuramente non eccezionale, soprattutto dal punto di vista mentale, ma, porta con sé, esperienza, con ancora delle fisiche, di tutto rispetto, secondo colpo in entrata, perché potrebbe andar via Maxine de Koeppere, quindi una riserva, ancora una volta, per l'ennesima volta, in una fascia sinistra, sempre spagnola, Jesus Vasquez, che non è ancora esploso, e non esploderà, credo, perché ormai, immagino sia troppo tardi, anni di Valencia, potrebbe esso allontanarsi dalla Spagna, venire da noi in Italia, e aiutare il Parma in questo finale di stagione, le uscite, quella già pronunciata di Maxine de Koeppere, 3 milioni e mezzo, e quella di Fabian, una minusvalenza, per quanto riguarda Fabian, ma, una cessione, obbligatoria, all'ansede, un signore Juventus Parma, la Juve di Montero, la Juve di Koccu, di Pedro Gonsalves, di Chiesa, di Lucatelle, di Musa, una Juve, cambiata in diversi reparti, ed ecco invece, il Parma, che presenta, la solita formazione titolare, colciolito, noi che contro la Juve, l'andata, l'abbiamo battuti, e noi speriamo di poter, perlomeno, pareggiare, Koccu, Chiesa, controllo e conclusione, di Federico Chiesa, vincente, con l'assist del Turco Koccu, Juventus 1, Parma 0, per ora, per quanto visto, in questi primi 10 minuti, risultato, tristemente meritato, Simeone, non pervenuto, per ora, intanto, Vlaovic, sono due, la difesa Parma, troppo fragile, la difesa Parma, che si fa costantemente sorprendere, da due giocatori, in realtà, tutti e tre, quelli del reparto offensivo, che giocano sul filo del fuorigioco, e, e fregano puntualmente, la nostra difesa, gran lavoro, quindi, di posizionamento, a parte sia di Pedro Gonsalves, sia di Vlaovic, e anche poi di Chiesa, in occasione, del primo gol, Pedro Gonsalves, prima critica, forse, che stiamo muovendo, nei confronti di Simeone, Chiesa, intanto, doppietta, al minuto 68, è un bel calo, considerando anche, la prestazione generale, non è soltanto, una questione di sconfitta, e quindi zero punti, è anche una questione di prestazione, sia con Roma, che con Milan, anche con Juve, il Parma, non c'è praticamente mai stato, se c'è stato solamente, per alcuni momenti, in questa partita, il Parma c'è stato, nei primi 10 minuti, il primo quarto d'ora, del secondo tempo, ma solo in quell'occasione, poi solo Juve, rischiamo forse, peggio dell'anno scorso, perché l'equilibrio, mi sembra veramente, esagerato, bisogna stare molto attenti, bisognerà poi forse, chissà, Bergkamp, non è una scelta, che dovremmo prendere noi, ma è una scelta, che prenderà Bergkamp, Bergkamp dovrà, probabilmente, come tante squadre, del nostro campionato, e anche non solo, del nostro campionato, scegliere, quale competizione, darà la priorità, perché noi abbiamo, avremo, abbiamo adesso, l'Europa League, trasferimenti, allora Vasquez è arrivato, ok, vi ricordo però, che Sanchez, io ragazzi, ricordiamoci questo 3-8, a gennaio, a fine gennaio, dobbiamo verificare, se il prezzo, si abbassa oppure no, se non si dovesse abbassare, magari aspettiamo giugno, qualora però, si abbassasse, prendiamolo subito, così almeno, lo iniziamo già a sfruttare, Sanchez è quello a zero, Simeone intanto qui, ha segnato, nel derby contro il Bologna, permettendo al Parma di vincere, di testa al volo, eh sì, eh sì, eh sì, ciolito Simeone, è bastato questo gol, per permettere al Parma di vincere la partita, e per permettere al Parma di essere, in questo momento, in Champions, con un solo punto di stacco, però, dal Sassuolo, e con zero punti di stacco dal Napoli, quindi, lì, a condividere il quarto, e anche però, il terzo posto, di stacco dal Napoli, di stacco dal Napoli,